Leggeremo l'Incipit del Visconte di Mezzato di Italo Calvino, romanzo pubblicato nel 1952, prima opera della trilogia I nostri antenati. È la storia fantastica del giovane Visconte Medardo di Terralba, il quale, durante la guerra di religione contro i turchi, alla fine del Seicento in Bohemia, viene colpito da una palla di cannone e diviso esattamente a metà. Una delle due metà riesce a tornare in patria, rivelando però la parte maligna di sé, con una lunga serie di insopportabili crudeltà che finiscono per contrapporsi all'altra metà di Medardo, anch'essa tornata, e ai suoi infiniti atti di bontà, anche questi però insopportabili, tanto petulanti e esagerati. Solo con una audace ricomposizione chirurgica, le due parti possono riunirsi e ritrovare la giusta armonia di emozioni e sentimenti. Il romanzo comincia così, per la pianura di Bohemia. C'era una guerra contro i turchi e il Visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Bohemia, diretto all'accampamento dei cristiani, e lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. Ma perché tante cicogne? chiese Medardo a Curzio. Dove volano? Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora, per compiacere certi duchi nostri vicini impegnati in quella guerra. Si era munito di un cavallo e di uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana e andava a presentarsi al quartiere imperiale. O volano ai campi di battaglia, disse lo scudiero, e ci accompagneranno per tutta la strada. Il Visconte Medardo aveva appreso che in quei paesi il volo delle cicogne è segno di fortuna, e voleva mostrarsi lieto di vederle, ma si sentiva a suo malgrado inquieto. Cosa mai può richiamare i trampolieri sui campi di battaglia, Curzio? chiese. Eh, anche essi mangiano carne umana, ormai, rispose lo scudiero, da quando la calestia ha inaridito le campagne e la siccità ha seccato i fiumi. Dove ci sono cadaveri, le cicogne e i fenicotteri e le gru hanno sostituito i corvi e gli avvotoi. Mio zio era allora nella prima giovinezza, l'età in cui i sentimenti stanno tutti in uno slancio confuso, non distinti ancora in bene e in male, l'età in cui ogni nuova esperienza, anche macabra e inumana, è tutta trepida e calda d'amore per la vita. E i corvi e gli avvoltoi, chiese, e gli altri uccelli rapaci, dove sono andati? Era pallido, ma i suoi occhi scintillavano. Lo scudiero era un soldato nerastro, baffuto, che non alzava mai lo sguardo. Oh, a furia di mangiare i morti di peste, la peste ha preso anche loro e indicò con la lancia certi neri cespugli. Ad uno sguardo più attento si rivelavano non di frasche, ma di penne e stecchite zampe di rapace. Ecco che non si sa chi sia morto prima, se l'uccello o l'uomo, e chi si sia buttato sull'altro per sbranarlo, disse ancora Gursio. Per sfuggire alla peste che sterminava le popolazioni, famiglie intere si erano incamminate per le campagne e l'agonia le aveva colte lì. In groppi di carcasse sparsi per la brulla pianura si vedevano corpi di uomo, di donna, nudi, sfigurati dai buboni e, cosa da prima inspiegabile, pennuti, come se da quelle loro macilente braccia e costole fossero cresciute nere penne e ali. Erano le carogne d'avvoltoio, mischiate ai loro resti. Già il terreno si andava disseminando dei segni da venute battaglie, l'andatura si era fatta più lenta perché i due cavalli si impuntavano in scarti e in pennate. Ma cosa prende ai nostri cavalli? chiese Medardo allo scudiero. Signore, lui rispose, niente spiace ai cavalli quanto l'odore delle proprie budella. Sono Gianni Caruso e ho letto l'incipit del romanzo Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. Buona continuazione.